Ti sei mai chiesto chi sei veramente? Che cosa hai dentro che sta solo aspettando di uscire fuori? E ti sei mai chiesto chi è la persona che sta davanti a te? Che cosa sta provando adesso come risultato di tutto quello che ha provato nel trascorso della sua vita? Io penso che quando si ama si diventi più predisposti a farsi questo tipo di domande. Infatti trovo naturale pormi certe domande durante quell'atto d'amore che è creare un'opera d'arte. E proprio nella collaborazione tra amore, domanda e gesto artistico io vedo la soluzione alla famosa lotta contro lo scorrere del tempo. Soluzione che si può manifestare come nel caso del pittore attraverso il quadro o soluzione derivante dalla presenza del vero amore fra due persone. Dove a quel primo sguardo si ripete un numero infinito di altri primi sguardi. Questo è il miracolo dell'amore.